Ciao a tutti, sono Moniki, sono una make-up artist di Bologna. Fin da piccola sono sempre stata appassionata della bellezza. Quello che cerco di raggiungere nel mio lavoro è valorezzare il meglio di One & Donuts, proponendo prodotti migliori nel mondo dei make-up. Per essere un make-up artist, ci vogliono altre cose. Determinazione, preparazione e sensibilità. Un paio di anni fa ho voluto studiare e imparare le tecniche per far che questa mia fazione per il trucco diventasse il mio lavoro. E ho trovato l'Accademia del Cinema, che è una scuola abbastanza rinomata riguardo al trucco, alla preparazione per il cinema, eccetera. Dove ho imparato veramente tanto. Ho avuto il diploma che mi ha dato la possibilità di lavorare in questo settore. Ho deciso di tornare alla mia città natale per imparare una nuova tecnica di trucco che arriva dall'America, che si chiama trucco con l'aerografo. Con questo strumento viene spruzzato delle piccole molecole di base che viene riempito ogni punto del viso, creando una pellicola abbastanza naturale, togliendo tutta e ogni imperfezione della pelle, creando un aspetto omogeneo, naturale, a lunga durata anche. Si lavora molto con la creatività. Quando trucchi a una persona, deve entrare in sintonia con la sua personalità e fare con chi il trucco realizzato abbia un po' della personalità, della persona che viene truccata. Quello che vorrei è crescere in questo mestiere e riuscire a trasmettere quello che ho dentro attraverso il trucco.